Restai attenta, mi hanno detto che c'è un ricercato in giro per la città, si sta nascondendo tra tutti gli abitanti e dobbiamo scovarlo. Ma davvero, Steph? Sì, 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 ho visto il suo manifesto, una persona davvero terribile, però non si capiva bene a chi fosse, potrebbe essere una guardia, potrebbe essere uno chef, potrebbe essere un minatore, insomma potrebbe essere chiunque in questo villaggio e noi dovremmo riuscire in qualche modo a trovarlo. E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki e sono Steph e chiesto giochiamo a Minecraft. Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui dovremo cercare e scovare il ricercato più pericoloso al mondo. Esattamente, e immagino che tu sei di nuovo felice. Sì, dai, è sempre bello investigare, fare nuove cose, quindi sì, posso dire di essere felice. Cercare un ricercato in giro per una città, sapendo... Perché hai paura, Steph, non dirmi che hai paura, scusa. Un po', un po', anche perché ci hanno attrezzato soltanto con 15 di fans per catturarlo, quindi se permetti sono abbastanza preoccupato. Ma quelli dai, sono affari tuoi, Steph. No, sono affari anche tuoi. Io scappo e ti mollo lì. Però dato che tu dici sempre che ti piace investigare, ho deciso che questa volta dirigi tutto tu, Fere, perché sei tu l'investigatore principale quest'oggi. Quindi spiegami un po' qual è la tua tattica per scovare un ricercato super segreto. Li prendiamo tutti a pugni, cerchiamo di estorcere informazioni con le minacce, con la violenza, ti piace? Allora, prima di tutto è illegale. Seconda cosa puoi far arrabbiare qualcuno. Su Minecraft non è illegale, prima di tutto. Allora, su Minecraft è illegale, stiamo cercando un ricercato, non devi diventare tu il ricercato. Poi stavo dicendo anche che se tu picchi un minatore, magari tutti gli altri minatori ti picchiano e ti garantisco che sono tanti. Quindi non mi sembra una buona idea per diversi motivi. No, non puoi farcela. Allora, visto che Steph, come ogni volta, mi impedisce di fare le cose a modo mio, dire che la cosa più intelligente sarebbe quella di cercare degli indizi. Cioè, se c'è un ricercato in questa città, per forza ha lasciato degli indizi. Cioè, si lasciano sempre delle tracce, Steph. Esatto, quindi io ti seguo, andiamo in giro per la città e vediamo un pochettino se riesci a trovare qualcosa. Io vado dove ci sono più persone, perché secondo me le cose succedono proprio dove c'è la colla. Non so perché, ma ho questo presentimento, quindi io guardo qua, ma non mi sembra, a parte questa mucca, non mi sembra di notare niente di troppo strano. Cioè, c'è una mucca che qui non ci dovrebbe essere, ma non penso che possa essere utile. Beh, no, vabbè, magari è la mucca di qualcuno di loro, Fere, credo che sia tutto lecito. Però io avevo notato un dettaglio, ma dato che devo soltanto osservare... Cos'hai notato, scusa? Perché se tu le investigatrice, io sto in silenzio. Ma le persone appese qui, questo hai notato, perché questi sono un po' ambigui. No, no, Fere, c'è un altro dettaglio. Ma per... Ah, aspetta! Cosa? L'ho visto adesso. Ah, se ne accorta! Passati! Togliti, ecco, vabbè, l'ho incastrato lì, ma va bene. Allora, colui che sta cercando alle mani tiene tanto. Ma cosa sono le filastroche, Steph? Ma che ci ha lasciato? Non lo so. Cioè, sembrano le filastroche dell'alzino. Allora, aspetta che mi sto concentrando. Quindi, stiamo cercando una persona che tiene tanto alle mani. Un pianista? Un... No, però aspetta, Steph, dobbiamo prendere in considerazione gli abitanti del villaggio. Quindi, la guardia, il minatore e l'altro chiede allo chef. A casa mia usano tutte e tre le mani per lavorare. Beh, la guardia e le mani per picchiare gli servono. Il minatore per prendere i minerali, lo chef per cucinare. Quindi, per ora, questo indizio non serve molto utile. Non serve a nulla. Qui c'è un pool party, guarda! Sono troppo felici. Ma qui sembra che non sia successo mai niente di brutto. Sono tutti felici. Ma infatti... Aspetta, Steph! Che succede? E io, guardando il pool party, ho trovato un altro cartello. Ti giuro che stavo solo per unirmi a loro, eh. Non l'ho fatta cosa. Me lo immagino, Ferri. Non c'è bisogno di giurare, ti conosciamo. Allora, con i che stai cercando vivono la vita faticosa. Ok. E che questo è un indizio mezzo inutile, Steph. Allora, aspetta, ragioniamo sui tre lavori. C'è da dire che, però, forse la più faticosa è quella del minatore. Sì, però, secondo me, noi possiamo andare ad escludere soltanto lo chef. Perché, per carità, è un lavoro faticoso, ma non è paragonabile, secondo me, alla guardia, che fa dei turni assurdi, e al minatore, che fa un lavoro fisico davvero incredibile. Dici, perché a me comunque sembra... Cioè, dipende da quanto lavora uno chef, è pesante pure quello. Quindi direi che per escluderlo al 100% aspettiamo il prossimo indizio. Ok. Oppure il prossimo festino. Esatto. Ci dirà qualcosa in più e almeno saremo sicuri di poterlo escludere senza alcun dubbio. Va bene, Fere, continua a seguirti. Qua è pieno di gente. Sì, cioè, anche se ci fosse qualche indizio, non lo vedrei qui in mezzo. Infatti, Fere, anche se noi riusciamo a scoprire di chi si tratta... Ok. Puoi trovare la persona nello specifico. Ne ho trovato un altro, Steph. Sarà un disastro, eh, Fere, ma sei bravissima. Oggi sembra che gli indizi arrivino da me, guarda. Allora. Io lo faccio apposta. Allora, colui che sta cercando dal gallo vi è svegliato. Ok. È il minatore, allora. Dici? Eh beh, scusa, allora, no, però aspetta, anche l'ho scelta. In un villaggio medievale, ok, non esistevano le sveglie. Secondo me vengono svegliati tutti dal gallo, Fere. Fere, ne ho trovato un altro dentro una casa. Ti ho visto, ti ho visto, aspetta. Allora, colui che stai cercando è forte ma non è armato. A casa mia, questo è un indizio che toglie tutti i dubbi. O no? A chi stiamo pensando, scusa? A tu non stai pensando a nessuno. Beh, la guardia in questo momento non è armata, però è forte. Ma la guardia è sempre armata per difendere. Quindi, eh sì, Fere, dai, la guardia è armata. È ovvio che c'ha la spada. Non è che sta in giro per il villaggio con la spada in mano. Vabbè, quindi è per forza il minatore. Perché comunque, per prendere dei minerali, diciamo che è una forza non indifferente nelle braccia. Esatto, mentre lo chef teoricamente non usa la forza. Non è forte, non è forte. Quindi, sappiamo che è un minatore, Fere. Ok, quindi adesso che sappiamo un minatore, c'è un piccolo problema, Stef. Sono decine in questo villaggio i minatori, quindi... No, fai centinaia, secondo me. Eh, esatto, cioè, sono tanti, quindi anche se lo sappiamo... Infatti, secondo me, ci manca ancora un indizio che ci fa capire cosa dobbiamo cercare tra i minatori. Perché io li vedo tutti uguali identici. Anche io, certo. Evidentemente però c'è qualcosa che possiamo notare per trovare... Magari, il nostro ricercato si è travestito da minatore, quindi non è un vero minatore. Esatto, esatto, brava, brava, hai capito cosa volevo dire. Sì, è sempre così, Stef. Quindi ci serve trovare ancora un indizio, Fere. Non so se sarà dentro una casa, non so se sarà in giro. Cerca un po' ovunque, perché ci serve quest'ultimo indizio per capire cosa dobbiamo guardare. Aspetta che forse l'ho già trovato. Ma come? È qua. Quando capirai, gli occhi guarderai. Hai capito? Bisogna guardargli gli occhi. Bisogna guardare gli occhi... Allora, tu e gli occhi ce le... Sì, i minatori. Allora, sto notando che ce l'hanno tutti i celesti. Ok, sicura però. Quindi evidentemente... Eh, mi sa proprio di sì. Ok, sì, sì, confermo. Sono tutti con gli occhi celesti. Quindi... Teoricamente il minatore ricercato, quindi quello che si è travestito da minatore, ha gli occhi di un altro colore. È ok, Stef, non è un bell'indizio però. Cioè, ripeto, sono tantissimi. Fere, pensavi che sarebbe stato semplice trovare un ricercato. Perché noi siamo esperti. Cioè, il ricercato è dalla polizia di Minecraft, è roba grossa. Allora, io vado in mezzo al Pulpati... Pulpati a vedere se c'è qualcosa che non va. Vado, Stef, mi butto! Eh, beh. Ok, salve. Tu no, tu no. E neanche tu? Ovviamente ogni scusa è buona per avere. Ogni scusa è buona. Porca miseria, sono troppi. No, no, ci dovevano dare comunque un indizio un po' più... Beh, se l'unica cosa di diverso è quella, Fere, cosa ti devo dire? Ma che cavolo, Fere, ma ci metteremo anni qua, Stef, ci metteremo una vita. Io sto iniziando a piangere tutti con i capelli azzurri, capelli, vabbè. Capelli, gli occhi e i capellini. Sto impattendo. Fere, 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 è successo qualcosa. Allora, stavo correndo in giro in questi boschi e mi è sembrato di aver visto un minatore con gli occhi arancioni. Purtroppo... Ma davvero? Sì, stavo correndo troppo, quando mi son girato non lo vedevo già più. Però sono quasi sicuro... Eh, vabbè, forse stai iniziando a tentare la fuga verso i boschi, Stef. Non lo so, Fere, controlla tutti qua, perché sono quasi sicuro di averlo visto. Arancioni, dici, così almeno... L'hai trovato? È lui. Dove? Dove sei? Non ti vedo più. Fere, veloce. Sto cercando un po' di allontanarsi da me, Fere. Non so più dove sei, pensaci tu, Stef. No, no, devi venire, ho bisogno di te. Dove sei? Fere, dove... Eccomi, eccomi, eccomi. Vabbè, vabbè. Sendo i suoi occhi sull'albero. Aspetta. Ma gira, attinati. Sì, ha gli occhi diversi! Sì. Vero? Sì. Ok, aspetta, 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 finisco di ingapiarlo ovunque. Guardia, faccia qualcosa, è lui il ricercato, è lui incopevole. Abbiamo imprigionato pure la guardia. Mi posso dare un pugno, raga, che è imprigionato? No, Fere, non puoi. Non puoi picchiarlo. Mi dai mano a gioia, Stef. Esatto. Mi dai mano a gioia in questa vita. Ok, secondo te è una prigione sicura questa? No, per niente. No? No. Allora, adesso la mia domanda è questa, Fere. L'abbiamo acchiappato. Cosa dobbiamo fare, secondo te? Cioè... Tu mi hai detto solo di trovarlo, non mi hai detto cosa fare dopo. Cioè, non lo so cosa dovremmo fare. Non ho idea, Fere, non ci hanno specificato. Noi l'abbiamo trovato, però nessuno ci ha specificato che cosa dobbiamo fare. Per ora l'abbiamo neutralizzato, almeno spero. Cioè, non so che tipo di armi possa magari avere nascoste. Sta facendo ancora il finto tonto, perché secondo me vuole tenere un pochettino alle sue parti. Però... Dobbiamo trovare una soluzione. Brutto criminale, abbiamo vinto noi. Sei stato imprigionato. Ti abbiamo anche portato via dal villaggio, così non puoi fare nessun tipo di danno. E infatti si è reso e si è smascherato. Guardalo, è proprio brutto. Ha proprio la faccia da bandito. Non ha neanche la faccia da pentito. Cioè, continua a essere lì arrabbiato. Cioè, se noi lo liberassimo farebbe un disastro. Lo so già. Però ormai da qui non è. Poi qui la polizia di Minecraft verrà a prenderlo e se lo porterà via. Esatto, se lo portano via. E infatti, Ferre, dobbiamo tornare al villaggio a prenderci la nostra ricompensa. Perché mi è già stato detto che ci hanno lasciato una chest con alcuni regalini che ti piaceranno tanto. Perché siamo stati bravissimi. È la parte più bella di questo lavoro, Stef. I regali e la fine. Ma in realtà non esistono i regali e gli investigatori. Però... Però si pagano. Però si pagano, sì. Quindi vanno bene anche i regali. Ok. Vanno, li accettiamo lo stesso. Forza, lasciamolo qui. Addio criminale. Grazie mille. È stato facile trovarti. E torniamoci nel nostro villaggio. Per Stef e Ferre siete i migliori investigatori del mondo. Grazie. Lo sapevamo già. Non c'era bisogno di ripeterlo. Contate pure sempre su di noi. Perché tanto non troverete nessun altro che vi aiuta in questo villaggio sperduto in mezzo al niente, Stef. Allora, ci sono diversi regali. Una chicken sword che direi che è di Ferre. La chitarra è mia. Credo ci sia la maschera che ha usato il bandito per fare i suoi colpi. Quindi il ricercato. E quindi questa la voglio prendere per provarla. I soldi, aspetta, Stef. Ferre. Così, così. Le divisi. Divisi. Ok. Divisi. Così siamo a posto. Ognuno ha i suoi soldi. Guarda te. Ce li teniamo ognuno per noi. Dimmi che non è l'arma più bella che tu abbia mai visto. Aspetta, Ferre. Ti sono andata a vero? Sì. Ragazzi, lasciateci un like. Questa è la prima volta che avete un altro video. Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.